Intesi come un io agente, la via della conoscenza attraverso Attilio M. Provate ora ad immaginare l'apertura ad una visione profondamente diversa da tutto quello che abitualmente interpretate della vita. Allora, stiamo parlando della scoperta di altro da voi, che è il mondo in sé, dove nulla più vi riguarda e dove non c'è posto per voi, intesi come un io agente. E' una visione del tutto contrastante con la pretesa di essere quell'individualità distinta e separata che vi fa ricondurre ogni cosa, ogni accadimento ed ogni essere che incontrate ad una medesima matrice, da voi creata, assunta come valida e poi coltivata. Nel mondo che è altro da voi, svanisce qualunque riferimento ad una vostra centralità e si impone ciò che è, effimero ed impermanente, poiché appare e scompare, si accende e si spegne, affiora e sprofonda nell'inconsistenza, cioè nella sconfitta del vostro bisogno di consistenza. Grazie.